Allora, si chiama Piantatela Lì, siamo qui con 35 piante che parlano e queste piante che parlano ci dicono che Piedemontana non si può fare perché viene fatto in un territorio che è già abbastanza violentato, violato, sradicato. I disagi, i problemi che causerà questa autostrada saranno immensi. Questi signori hanno un mucchio di problemi, hanno già detto da un anno che dovevano partire, partire con i lavori e non partono. Perché non partono? Sono pieni di problemi. Auguriamo loro che con la nostra lotta questi problemi possano aumentare per evitare che si faccia questo disastro. Ricordiamoci una cosa, che stanno facendo dei lavori contro una sentenza dell'Avvocatura di Stato. L'Avvocatura di Stato a suo tempo ha detto che si potevano fare delle modifiche all'interno del tracciato originario, ma che dovevano rimanere i due capisaldi, e cioè Malpensa e Orio. Orio non c'è più, per cui ci sono in ballo dei ricorsi che possono invalidare questa opera e che si possono ripercuotere anche sulle tratte B2 e C.